studiamo no 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 metta giù immediatamente quelle armi se usati bene questi libri potrebbero eliminare il problema dei mille accenti d'italia ma come ma io pensavo che fossero solamente due o tre regolette scusi ma che lingua sta parlando è la rana dalla bocca larga scusi tre regolette si va beh può chiudere anche meno è volendo volendo lei ha detto volendo adesso è lei che fa la rana dalla bocca larga volendo è aperto tanto volendo o non volendo non so se lei ce la farà mai dizione fonetica di giorgio dal piai ma è pieno di regole ci sono proprio tutte l'hai aperta l'hai chiuse l'ho aperta l'ho chiusa i nomi personali i verbi gli omografi che cosa sono gli omografi ho fatto una pillola su questo se la vado a rivedere è la numero 58 intanto tenga anche questo esercizi di pronuncia di walter peraro ma è pieno di elenchi di parole posso morire so so che basta un po di impegno questo libro rispetto all'altro è pieno di esercizi da fare e per finire se vuole diventare una spada e togliersi ogni dubbio c'è anche questo il d'op dizionario italiano multimediale multilingue d'ortografia e pronuncia buono studio va bene grazie bene si dice bene bene grazie